Ciao Franco, la domanda sul prezzo è in assoluto quella che ci fate più spesso ed è difficile darvi costi precisi per alcuni motivi. Il primo è che tutti i prodotti Gibus sono realizzati perfettamente su misura, secondo un range che può variare da qualche metro a superfici molto ampie, senza conoscere le dimensioni non è quindi possibile calcolare un prezzo esatto. Un'altra variabile sono le finiture che sceglierai, gli optional, i colori, i tipi di tessuto, che possono far variare il prezzo indipendentemente dalle dimensioni della tenda. Ci sono poi da considerare le condizioni di installazione, per esempio c'è un rivestimento a cappotto, grondaie, pavimenti inclinati, perché le diverse condizioni dell'edificio possono incidere sulla scelta di una versione di prodotto rispetto ad un'altra. Bisogna perciò conoscere tutte le caratteristiche e le possibili problematiche del cantiere. Se per esempio la tua intenzione è quella di installare una pergola al quinto piano di un condominio, il prezzo sarà diverso rispetto all'installazione in una casa a piano terra con giardino. Se la tua casa è rivestita con un cappotto isolante, l'installazione avrà tempi e costi diversi rispetto ad un tradizionale muro nell'atterizio. Quindi il modo migliore per avere un prezzo realistico è rivolgersi al Gibus Atelier più vicino a te e richiedere un progetto ad hoc, basato su tutte le variabili del tuo specifico caso. Puoi trovare l'atelier direttamente sul nostro sito gibus.it